Io domando a ognuno di voi, anche a me, sappiamo meravigliarci noi delle cose di Dio o le prendiamo lì come cose passaggere? Fratelli e sorelle, la nostra vita, se ci pensiamo, è piena di miracoli, è piena di gesti di amore, segni della tua bontà di Dio. Di fronte ad essi, però, anche il nostro cuore può restare indifferente e diventare abitudinario, curioso, incapace di stupirsi, di lasciarsi impressionare, cuore chiuso, un cuore blindato. E questo non ha la capacità di stupirsi.